È ufficiale Treviso Basket tra i dilettanti, mentre il calcio pensa a una nuova società. Adesso però la palla passa al sindaco, giusto? Certo, adesso ce l'ha il sindaco, lui sarà il referente di qualsiasi cordata, chiamiamola così, che si vuole avvicinare per venire a giocare al tennis. Non bastava il registro delle coppie di fatto, le pretese di ZTL, le inferiate nei giardinetti di Sant'Andrea, le panchine di Via Roma. Ora il sindaco Manillo arriva anche la grana a Treviso Calcio. Sarà lui a dover fare da garante alla federazione, che stanca di eventurieri del pallone, vuole serietà a tutti i livelli e tocca comunque a lui trovare una soluzione per lo stadio, che da oggi non ha più nessuno che lo mantenga attivo, evitando che vada in degrado, iniziando dal contratto con l'Enel, tanto per fare un esempio. Ma soprattutto serve a qualcuno che velocemente recuperi l'unica parte recuperabile dell'attuale società destinata irrevocabilmente alla liquidazione, il settore giovanile. Già i pezzi migliori stanno migrando a Verona, Brescia e Genova, ma qualcuno, vuoi per età, vuoi per amore della casacca, a Treviso vorrebbe rimanere. E ricominciare tutto da capo non costa poi tanto, naturalmente in relazione al settore. Se facciamo il campionato di serie D, ci sono dei 300 mila euro a fondo perduto, quindi quelli vanno alla federazione. Poi se andiamo ad analizzare per la città di Treviso i costi che ci sono, potrebbero essersi in altri 600-700 mila euro, che dovrebbero servire per fare un campionato. Quello che intristisce è il crepuscolo dell'FC Treviso 2009, con i dirigenti più che sconsolati, veramente infuriati col presidente e socio Corvezzo. Finché vieni preso in giro personalmente, dichiarisci, a me è molto fastidio quello che è successo ieri e i giorni passati ai miei colleghi, perché non dico che era una storia già vista, ma si è riproposta migliaia di volte. Sì, almeno in sei mesi che ero qua io ne ho viste veramente le cose, quella l'ultima poi dell'allenatore qua presentato ieri, penso che nel mondo del calcio non ci sia mai vista, ma è il genere.